Ciao e bentornati sul canale! Bentornati sul canale? Questo uovo non è per cari Bing ma ci piace particolarmente perché dice cosa trovi dentro e poi scopri un peluche! Quindi è un personaggio diciamo 3D 3D e peluche? Perciò questa cosa ci piace molto! Ma quante uova abbiamo fatto fino adesso? Tante! E quanto cioccolato abbiamo mangiato? Poco! Perché lo condividiamo? Noi lo portiamo dalle nonne, dagli zii, dai nipoti, dai cugini, dagli amici Allora, Bing è carino, è un cartone di uova E' un cartone cari... Gli sto battendo sulla schiena così gli viene la voce vibrata E' un cartone molto carino Molto carino! Per i bambini Ma devo dire che quando capita magari non ho voglia di alzarmi per cambiare col telecomando Lo lascio anche, è piacevole Anche io lo lascio Sono simpatici, sono molto piccoli loro Soprattutto quando magari di sera non so cosa guardare sulla tv del robbing Un filmoro Un filmoro Ecco una cosa Una cosa che poteva essere carina come fanno altre uova E' personalizzare un po' di più la plastica C'è bambini esternamente ma un po' anche sulla carta sarebbe carino da vedere Poi ovvio che magari si busta se no E qui abbiamo il classico uovo Lei farà a pezzi piano Ok, bicolor Vedete l'uovo bicolor Che noi andiamo ad assaggiare Perché non abbiamo mai assaggiato un uovo Kinder Vero? Mmm, ma che capore avrà l'ho messo Kinder? In solito Che cosa faccio oggi? Ho preso un pezzo di buono cioccolato della Walter E l'ho messo insieme a un pezzo di cioccolato della Kinder E l'ho mangiato insieme Spettacolo Vai Con calma Hai vissuto di nuovo il povero Bordeaux Allora abbiamo trovato Oh, ma che carino Vediamo, vediamo Allora La carta Oh, ma che carino E' Bing Direi col pigiama Di hoppe, te hoppe mi pare No, è per... Questo è il loro affezione E qui abbiamo... Io supererò No, abbiamo la checklist Parziale credo O forse sono solo questi tre Chi lo sa? Io credo che potrebbero essere solo questi tre Oh, ragazzi E' fatto veramente bene Vero Non c'è niente da... Non ho niente da dire Vero Noi siamo qua per voi Le metteremo fuori le uova di Pasqua Nell'ultimo periodo Anche molto rapidamente Per permettervi Di vedere le sorprese E chiedere alla zia, la nonna, nonno, papà e mamma Voglio quell'uovo Però dovete dirlo con questa voce Dovete dire Voglio quell'uovo Ehm... Per i bambini a cui piace Bing E' una bella sorpresa Perché soprattutto i bimbi piccoli Perché magari... Ciao bambini Se ci sono delle stacuine così Magari non lo so si fanno mai Oppure ci sono i pezzi piccoli Vero Che possono ingerire E invece Bing E' un pupazzetto Che magari lo possono anche... Ragionato bene Essendo per i bambini un po' più piccoli Il personaggio non ha pezzi... Pezzi ma... Questo era Hippity Hoppet Forse... Eh? Non mi ricordo bene come si chiamava Però... Aveva un nome Avrei preferito il Bing classico Ma comunque... Mi piace anche questo Quello con la salopette rossa E la maglietta verde Ah... Però anche questo non mi dispiace Questo è quello... Versione dormigliare Oh comunque... Super pigiama Questa sorpresa si abbina benissimo A quello che ho comprato oggi Ovvero un cuscino a forma di sushi morbido Ah è vero Che mi metto a dormire Su quello con questo... Tipo pupazzetto Sì... Ma facciamolo upgrade di questa cosa Facciamolo vedere Dov'è finito? Vai a prendere Vi facciamo questa sorpresa oggi Per chi rimane fino alla fine del video Avrà la gradita sorpresa di vedere Il super cuscino sushi della Legami Preso oggi Si chiama... Perché non ci faremo una recensione Cuscino... Ehm... Soft tipo... Cusci... Eccolo qua Soft peluche Anche le manine E' morbidissimo ragazzi Gira... Mister Wonderful Esatto E questo qui è il super E anche le manine E gli scriverò uova di cioccolata di Bing Più sushi E la gente non capirà Che è sushi Ma cosa vuol dire sushi? E' perché c'è un sushi alla fine Va bene? Quindi io vi ricordo di iscrivervi al canale Mettere un like, condividere, commentare, schiacciare la campanella Grazie a tutti i video E come sempre Noi vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video Ciao